Giovedì 6 settembre 2018 Giovedì 6 settembre 2018 5 funghetti 5 bei funghetti eh ma lo so ma lo so non ti so dire non ti so dire questo e' questo mio discorso Ezra il quindi tutto ma lo stanno rizzicati in lupato però è tua questa guarda bello ci diamo c'è male questa è la metà comodo v e la c'è oh 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 Passa odor di mare, di zelo, merda, monte, vita Il fatto è stringerci di più Prima di perderci forse ci sentono lassù E' un po' come sputare via il veleno